Sono 130 cooperative aderenti per un fatturato complessivo di 140 milioni di euro prodotto da più di 17.000 soci e da oltre 3.500 occupati. Sono questi i numeri degli associati alla Lega Coop di Basilicata che si sono riuniti a Tito, in provincia di Potenza, per il XII Congresso regionale di Lega Coop. L'impresa del futuro cooperativa per tutte è questo il tema nazionale che è stato scelto per avviare un percorso di condivisione delle esigenze delle cooperative verso l'appuntamento del prossimo congresso nazionale del 3 e 4 marzo a Roma. In Basilicata l'obiettivo dei confederati è quello di rimarcare il tema della sostenibilità economica e sociale in un'epoca di profonda trasformazione per comprendere come il cambio di paradigma definisca inevitabilmente modelli di crescita innovativi e nuove forme di impresa cooperativa in grado di generare occupazione, sviluppo e benessere. Noi abbiamo una chiara politica di sviluppo di nuova cooperazione, ci occupiamo e qui in Basilicata in modo particolare delle aree interne attraverso lo sviluppo e la promozione delle cooperative di comunità. Abbiamo un nostro progetto specifico per lo sviluppo delle comunità energetiche in grande coerenza con il bisogno che ha il Paese di acquisire una propria autonomia nella produzione di energia e quindi da questo punto di vista abbiamo un tessuto imprenditoriale che ci mette nelle condizioni di essere presenti su tutto il territorio nazionale. Ma credo che l'esperienza del movimento cooperativo rappresenti uno strumento, un'opportunità per creare le condizioni di un'inversione. Le crisi che abbiamo in corso sono ancora più accentuati qui nel mezzogiorno e credo che se si fossero le condizioni per creare un'opportunità di sviluppo radicato sul territorio, in tutte le comunità che devono essere presidiate, credo che il movimento cooperativo sia una risposta adeguata.